siamo in una delle due panchine del campo dedicato a giuliano loddo campo di ok su prato e siamo con marta ruffi ciao marta ciao buongiorno e con matteo vacar giunotto mappi ciao subito perché mappi mappi perché da piccolo chiamavo contemporaneamente mio padre mia madre quindi un minestrone un unione parliamo con voi delle giovanili di ok su prato siete i due tecnici che guidano le due squadre marta per il femminile e matteo per il maschile quindi insomma parità di genere rispettata partiamo da da marta quante squadre alleni quante sono le ragazze le bambine impegnate nei campionati attualmente qualcuno abbiamo tre categorie che sono l'under 12 l'under 14 l'under 16 abbiamo circa una rosa di 15 ragazze che si dividono nelle tre categorie diciamo che è un lavoro che abbiamo iniziato tre anni fa e che soprattutto l'anno scorso ha portato dei frutti importanti quest'anno speriamo insomma di raccogliere ancora di più stiamo lavorando molto bene stiamo facendo anche dei lavori importanti in diverse scuole di Cagliari e quindi l'obiettivo ovviamente è quello di aumentare la rosa e di arrivare almeno una ventina di giocatrici ci arriveremo sicuramente importante il lavoro con le scuole giusto fondamentale perché senza lavoro nelle scuole che chico rufi sta portando avanti ovviamente non abbiamo non avremo l'infa vitale quindi sicuramente importante rapporto con le scuole grazie a dio chico molto bravo in questo e quindi stiamo portando avanti dei progetti in diverse scuole di Cagliari per quanto riguarda invece il campo maschile Matteo allora per quanto riguarda il campo maschile siamo l'unica società in sardegna che ha tutte le categorie maschili a partire dall'under 12 abbiamo under 12 under 14 under 16 under 18 che seguo io e in più abbiamo l'under 21 che segue fernando iorghe che il tecnico della prima squadra abbiamo in tutto dall'under 12 all'under 18 circa 35 ragazzini diciamo che in totale abbiamo fra maschi e femmine più i bambini che segue domenico bresciani e su questo voglio sottolinearlo perché fra il maschile la femminile diciamo che il fiore all'occhiello del nostro lavoro sono proprio i CAS sono il lavoro che fa domenico con un gruppo di bambini ormai da 3-4 anni che si ritrovano il mercoledì e il venerdì qua dalle 17 alle 18 per per fare delle partite amichevoli diciamo questo gruppo sta crescendo sempre di più dai bambini i bambini dei CAS più gli under 14 e gli under 16 adesso parteciperanno a febbraio ad un torneo a bologna quindi diciamo stiamo lavorando molto bene in più sono impegnati in tutti i campionati regionali per cui diciamo stiamo lavorando bene tu ti occupi dell'under 18 sono due che ha già fatto due partite in questo campionato tre partite l'under 18 oggi gioca la prima partita contro il suelli purtroppo under 18 ci sono stati un problemi a livello regionale quindi ci sono solo due società ci siamo noi e il suelli per cui ci giocheremo contro di loro uno contro uno insomma non andremo altre categorie hanno chiuso tutte il girone d'andata tranne l'under 16 che giocherà l'ultima partita domenica contro l'HT Uras qualcos alle 10 come sta andando allora l'andata in realtà allora l'under 14 in questo momento è seconda in classifica ha vinto tutte le partite e sarà gioco diciamo che si giocherà il passaggio alle finali contro l'ansicora nella gara di ritorno l'under 16 diciamo che è una squadra prettamente costituita da ragazzi dell'under 14 quindi diciamo l'esperienza in più per il gruppo dei più piccoli e quindi diciamo non sta andando bene come l'under 14 abbiamo vinto alcune partite altre non sono andate benissimo e l'under 18 vedremo oggi come andrà l'under 21 purtroppo ha perso entrambe le partite sia quella contro l'ansicora che quella contro l'HT Uras quindi comunque la settore giovanile che cresce dicevi prima Marta il tutto è iniziato tre anni fa ora quali sono i frutti? i frutti sono che come diceva bene Mappi abbiamo tutte le categorie giovanili per quanto riguarda la femminile abbiamo iniziato tre anni fa per tre anni abbiamo centrato le finali nazionali quindi sono tutti risultati importanti Giuliano Lodo lo diceva sempre che è importante il gruppo prima di tutto soprattutto nell'ambito femminile questo è un pochino più difficile però abbiamo lavorato veramente molto bene i frutti si stanno si stanno vedendo ci sono anche delle giocatrici secondo me interessanti ma come diceva bene Mappi il frutto più importante lo vediamo nei CAS quindi nel lavoro di Domenico che è fondamentale perché poi è da lì che vedremo i giocatori dal domani e ovviamente noi ci auguriamo nei prossimi anni di tornare in A1 però è ovvio che i giocatori devono nascere qua e quindi il lavoro che fa Domenico è quello più importante quindi la domanda sul futuro dell'ok su Prato del Cuscagliari qual è? cioè la risposta alla domanda sul futuro dell'ok su Prato del Cuscagliari qual è? il futuro lo stiamo costruendo qua adesso quindi il futuro è ovviamente mettere le basi quindi lavorare molto con la società collaborare con la società anche con gli altri settori cercare di costruire un futuro a roseo noi da soli ovviamente non possiamo fare niente abbiamo ovviamente bisogno dell'aiuto alla società che sta rispondendo bene ci ha detto di sì a tutto e questo è molto importante perché non è scontato e quindi insomma i frutti li stiamo già vedendo già il fatto che l'Andre 14 femminile è già qualificata alle finali l'Andre 18 ce la giochiamo oggi sono già due finali portate a casa quindi insomma stiamo veramente lavorando bene l'ultima domanda sulla prima squadra avete chiuso diciamo che eravate un po' in crescita cioè avete avuto un momento di calo a metà stagione poi vi siete ripresi e una squadra giovane che si sta formando sì una squadra giovane diciamo siamo siamo cresciuti di partita in partita diciamo siamo stati un po' sfortunati all'inizio perché ci sono stati dei problemi con i giocatori stranieri che non sono arrivati subito per problemi burocratici diciamo che adesso avremo il recupero della partita contro il Rassemblement Torino se dovessimo vincere quella andiamo a sei punti dalla prima in classifica che è il Suelli e ad un punto dalla seconda in classifica quindi diciamo con lo scontro diretto contro il Suelli alla prima di ritorno per cui diciamo che il campionato rimane aperto ovviamente non possiamo più sbagliare dobbiamo cercare di vincerle tutte poi purtroppo non dipende solo da noi vedremo come andrà la fine senti Yorghe, Fernando Yorghe quando è stato intervistato da noi per Casacus ha parlato della difficoltà dell'essere giocatore e contemporaneamente essere allenatore è un po' il tuo caso nel senso che alla fine tu comunque allinei ragazzi ma giochi in prima squadra come ti trovi in questa doppia veste? Diciamo che in alcuni casi fa un po' strano Lo capisci? Fa un po' strano perché per esempio oggi mi ritrovo ad allenare diversi miei compagni di squadra che giocano con me in prima squadra e li allenano con l'Andere 18 per cui da un lato fa un po' strano dall'altro diciamo ti gratifica come allenatore perché vedi comunque ragazzi che hanno iniziato a giocare con te cioè che hai iniziato ad allenare quando erano piccoli e li vedi arrivare in prima squadra giocando insieme a te per cui è una cosa sicuramente positiva quella per cui diciamo è bello e allo stesso tempo in alcuni casi fa un po' strano però è una cosa positiva ringraziamo anche i suoni di questo bellissimo campo grazie mille a Marta Rufi grazie a voi grazie a Mappi Baccar grazie a voi se riesco a finire questa intervista è già una cosa positiva grazie a voi grazie a voi